ragazzi prima di guardare il video mettete mi piace e buon divertimento tanti infarti ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono 20circo89 e oggi siamo tornati su otalastwistandblower con la nuova serie finalmente di otalastwistandblower e porterò episodi link ubriaco chiuso ok allora dove devo andare porca merda no no non ci siamo porca puttana porca di quelli no per forno ma perché che ti ho fatto di male no qua è tornato sota mi ha visto scusa ma se di là può andare però vuoi dire ci sono stanze torniamo alzati porco di quel cane qua forse è la stanza menchia questa è la stanza menchia ma come ragazzo d'ha visto vaffanculo porco dio eh quella forse è la stanza ma vaffanculo va vai va no 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 gotta l'uomo Sono un attimo Oh Merda Armadietto Se bussa No merda 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 Qua non ci può andare Le valvole Piano avvino Gasato L'obiettivo Ma io questa Hanno bussato Ma vaffanculo Ah devo tornare dietro mi pare No Dove tornare dietro Ce l'ho fatta oggi credo Ma da qua deve uscire no Seguiamo le sci di sangue Sì ma ce l'ha scelta il petto Io invece vado di qua Qual è più giusto Oh merda Che schifo Sta bevendo Ma io sto mangiando Il cavolo Sta bevendo l'acqua del gabinetto A sede Qua non ce n'è acqua Capito Di sangue Qua deve andare Ok Ok ragazzi Andiamo subito di qua Miniche ma che cos'è Dove mi stanno portando all'inferno Ste scale Oh merda Non ci voglio credere No 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 Ma porco cane Porco cane Porco cane Mi è venuto un infarto Merda Meglio andare Per me ne è Chiudi la porta Qua dove sono Si è messo Ho una batteria A me Stendo qualcuno cadere Ma sei tu No Che caccia Ma porco cane Porco cane Abbi stegnato per quello Vero Io le inseguo Ma che caccia Se è una palestra No Continua a fare Quello che stavi facendo Decisione giusta Direi Non era Chiara occasione Da gol Ah no Qua no Tutto ho detto Ma porco cane Anzi Anzi L'unico più bello La temana Non la testa sgobbia Questa qua no Ah ok No Dove sei Stanno vergando Dove sei Visto Dove ci sono quelli con la ciolla Ma non mi hai visto Infatti Porco cane Porco cane No Che cazzo Ha lasciato Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Mi sei ponendo documenti Che non hanno fatto niente Troppi infatti Fino a C'è un giovane a pallone Io sono stanco Ma merda Merda Apri questa porta Che cazzo E' sponerare Ma porco cane Ma porco Ma chi sei tu No No Mi ha costato 3000 euro Questa computer No Pesta di merda Lasciami No No Ok Ok Si chi buttano Si chi buttano Si chi buttano Ottieni Ma perché non gli dai una petata Un puglio A questa faccia di mingha Un cazzo Dami un favore Dami un favore E mori qui Dove mi ha affocato Dovevo morire da solo Ok Chi cazzo è Oh no Il puglio Non ti farò vedere Il ciccione è tornato No 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 per favore Attene per favore Ma bene ragazzi Questo video si conclude qua Spero che questo video Vi sia piaciuto 15 mi piace E ci vediamo Al prossimo episodio Vi lascio In suspense E è ritornato Questo ciccione di merda Commentate Condividete Arriviamo A 15 mi piace Sarà una minchiata Però ci dobbiamo arrivare Per forza Bene ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti.